in questo tutorial lavoriamo questa borsetta all'uncinetto realizzata andando ad unire tre mattonelle della nonna prima di iniziare vi lascio le misure di riferimento la borsa che realizzo io è larga 28 centimetri ed è alta 22 centimetri prima di tutto dovrete realizzare delle mattonelle granny il cui procedimento non vi mostro in questo tutorial ogni mattonella è circa 18 per 18 centimetri questa è la classica granny però con combinazione di colori e scambi di colore in modo da ottenere questi questi fiorellini quindi se volete realizzare anche voi questo genere di mattonella potete fare riferimento al tutorial dedicato che trovate nel canale e anche nella i che compare in questo momento una volta realizzate un due e tre mattonelle ci occupiamo dell'assemblaggio e della creazione della borsa una volta create le tre mattonelle le andremo a cucire tra di loro in modo poi da formare un anello chiuso ho già fatto queste due cuciture e quindi procedo con voi a realizzare l'ultima quando realizzate le prime due cuciture andrete ad iniziare poi a tagliare il filo quando invece realizziamo come nel mio caso l'ultima ci teniamo il filo poi sull'uncinetto perché approfittiamo per continuare a girare intorno quindi quindi la cucitura deve avere la stessa direzione in questo caso io accoppio queste due mattonelle tra di loro e parto dal basso verso l'alto le mattonelle le posizioniamo rovescio contro rovescio in modo da lavorare direttamente sul dritto e semplicemente procediamo a maglia bassa andando a prendere solamente le coste interne cioè quelle più vicine tra loro così facendo come vedremo adesso tra un attimo viene fuori il disegno della maglia e rimangono anche queste coste a vista iniziamo quindi andando a individuare le due catenelle di angolo mi inserisco con l'uncinetto nella costa interna e vado a cercare la corrispondente maglia da questa parte 1 2 3 sono le maglie del terzetto una due le catenelle quindi la corrispondente catenella è questa e vado a prendere solamente le coste più vicine tra loro porto dentro il filo lo assicuro e faccio eventualmente anche una catenella e poi vado nella catenella che segue prendo solamente la costa più lontana da me da quella parte e di questa vado a prendere la costa più vicina a me porto fuori il filo e chiudo a maglia bassa e procedo così quindi maglia su maglia coste interne accoppiate tra di loro quando siete nella catenella di separazione dei gruppi da tre vi può capitare di trovare la catenella un po stretta perché magari l'abbiamo usata per fare il cambio di colore in quel caso eventualmente vi potete aiutare con un uncinetto più piccolo queste sono le tre maglie io devo prendere ancora la catenella quindi unisco le catenelle di separazione e procedo con il terzetto e andiamo avanti così fino ad unire tutte le maglie una volta terminata l'ultima cucitura di tre teniamo il filo sull'uncinetto e andiamo a fare un giro di rifinitura sulla parte superiore dico che la parte superiore perché comunque seguo la direzione di questa maglia di questa linea di catenelle per definire qual è il sotto e qual è il sopra della borsa quindi questa è la parte superiore vado a fare un giro tutto intorno a maglia bassa in costa retro quindi entro solamente nella costa dietro lavoro in tutte le maglie quindi sia sulle maglie alte che sulle catenelle vado a lavorare in costa retro prendendo solamente la costicina che trovo dietro e procedo a maglia bassa tutto intorno dei delle maglie così come mi si presentano e vado a lavorare un giro di maglia bassa in costa lavoro in tutte le maglie quindi sia sulle maglie alte che sulle catenelle vado a lavorare in costa retro prendendo solamente la costicina che trovo dietro e procedo a maglia bassa tutto intorno mentre seguiamo questo giro a maglia bassa in costa retro l'unico punto di attenzione ce l'abbiamo in corrispondenza della cucitura quindi vi faccio vedere cosa fare in questo caso dove già abbiamo queste due coste che corrispondono alle catenelle che comunque abbiamo unito facendo questa parte di cucitura andiamo a fare due maglie basse chiuse insieme quindi entro qui prendo il filo entro qui prendo il filo e chiudo insieme e poi proseguo una volta ritornati al punto di partenza andiamo a fare un ulteriore giro di rifinitura con una sorta di punto gambero facilitato quindi sulle maglie basse sottostanti lavoriamo una maglia bassissima facciamo una catenella volante e di nuovo una maglia bassissima in questo modo otteniamo questa rifinitura un po ondulata alla fine di questo giro di rifinitura taglio il filo e lo vado a sistemare con l'ago quindi entro nel punto successivo e rientro nella costa retro in questa terza costicina che si forma qui dietro in modo da fare una chiusura pulita e ricreare un anellino e poi mi vado a nascondere il filo andiamo a lavorare la parte inferiore che poi dobbiamo chiudere io ho marcato una corrispondenza di laterali perché poi una volta lavorato questo giro che adesso andiamo a fare di maglia bassa in costa retro andremo a unire i punti tra di loro per eguagliare la situazione qui dove ne ho 32 vado a lavorare una maglia unendo due maglie chiuse insieme in corrispondenza della cucitura così come abbiamo fatto sopra mentre da questa parte lavoro una due maglie una due maglie quindi in corrispondenza della cucitura lavoro comunque una maglia in ogni archetto che mi trovo in modo così da eguagliare appunto quel punto che mi manca per avere l'esatta corrispondenza da una parte e dall'altra parto per esempio qui in corrispondenza di un marca punti e vado a lavorare solamente in costa retro una maglia bassa per ogni maglia sottostante così come mi si presentano qui abbiamo detto che vado a lavorare semplicemente due maglie una per ogni maglia che trovo sotto quindi sui due archetti dell'angolo quindi una volta ritornata al punto di partenza posso levare il marca punti e ho lavorato praticamente 31 maglie di qua e 31 dall'altra parte quindi vado a chiudere con una maglia bassissima poi taglio il filo un pochino lungo perché mi serve per fare la cucitura sfilo e prendo l'ago da lana vado quindi a unire le maglie tra di loro prendendo solo per il primo e l'ultimo punto tutte le coste quindi il punto per intero e per il resto delle maglie proseguendo ad unire le coste interne tra loro dal punto in cui esco rientro quindi adesso ho il filo da questa parte e entro da me verso fuori ora ho il filo da questa parte e faccio l'opposto e procedo così a completare tutta la cucitura una volta terminata la cucitura del fondo la struttura all'uncinetto è pronta e ci occupiamo di andare a creare un rinforzo per l'interno la tracolla e la chiusura io ho scelto di procedere in questo modo innanzitutto utilizzo un foglio di feltro per indurire che eventualmente potrete foderare oppure lasciare così quindi sono andata a prendere le misure in altezza e larghezza andando a piegare il fondo una volta tagliato il pezzo di interesse sono andata a fare una cucitura da un lato dall'inizio alla fine e da una parte come tra poco vi mostro ho lasciato un pezzettino aperto perché poi vado a montare una zip sul feltro stesso ho montato una tracolla e adesso vi faccio vedere come faccio con l'altra perché ne vado a mettere due questa è la mia struttura che è perfetta rispetto alla dimensione del lavoro all'uncinetto quindi va perfettamente al suo interno come vi dicevo qui ho fatto una cucitura da sopra fino a sotto il fondo è chiuso perché è un foglio piegato a metà e da questa parte ho lasciato un po di spazio perché poi io ho deciso di utilizzare questa zip che tra l'altro anche i buchini e che andrò a cucire all'interno siccome da una parte a questa sezione qui io cucirò come tra poco vi mostro andando a sistemare la cerniera all'interno e poi verrà piegata da tutte e due le parti quindi da una parte si incastra fino alla cucitura dall'altra rimane leggermente aperto prima di fare questa operazione vado a realizzare i manici quindi ho tagliato circa 55 centimetri e poi con questo attrezzo mi sono aiutata per realizzare i buchini che mi servono per andare a cucire questo sul feltro questi li ho già cuciti e quindi procedo a cucire gli altri in maniera molto semplice quindi sono andata a identificare i punti in cui voglio cucirli che poi corrispondono da questa parte alle cuciture delle mattonelle e dall'altra parte me lo troverò in questo modo quindi per prima cosa procedo con la cucitura della tracolla che manca una volta cuciti i manici la struttura della borsa è pronta ma manca ancora la zip che abbiamo detto che vado a cucire all'interno quindi la apro nel mio caso voglio che questa parte sia sul laterale che ho lasciato per una piccolo pezzo scuscito quindi me la vado a sistemare eventualmente vi aiutate come nel mio caso con delle mollette per fissare il lavoro procedo a cucire nel mio caso io utilizzo il filo di nylon potete utilizzare il filo che preferite per finire andremo ad inserire la struttura della borsa nel lavoro all'uncinetto e procederemo con una cucitura tra le due parti spero tanto che questo video tutorial vi sia piaciuto per farmelo sapere potete lasciarmi mi piace e scrivermi un commento qui sotto e per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video iscrivetevi al canale ciao e grazie